Oggi presentiamo 500 e Panda con la nuova tecnologia Mild Hybrid. Al motore Firefly, tre cilindri, mille aspirato da 70 cavalli, abbiniamo un motore elettrico da 3,6 kilowatt e una batteria agli ioni di litio, che consente ad ogni decelerazione e frenata di recuperare energia, che altrimenti andrebbe sprecata, e restituirla in fase di accelerazione. Questo ci consente di offrire con le nuove 500 e Panda Hybrid un piacere di guida, prontezza di risposta, un comfort ad ogni riavviamento di motore, ma soprattutto un'importante riduzione di consumi ed emissioni fino a 30% in meno rispetto alle versioni precedenti.